E' lui quindi? Eh, si. Qui si sa? Questi sono gli scenetti. Ah, è l'unico del 1600, non quella chiesa. No, 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 attenzione, qua, 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 qua. Poi c'è un bosco medieval, un bosco normano, che poi, i normani, come da secoli, all'interno di fulgula, che cosa sono facendo? Chi si trovò? Quindi, depredavano e portavano ogni bene all'interno del cassa con il loro costruito. Ma, quelle chiese che vedi là dentro, là, sono state dipinte alla fine del 1300. Quelle chiese? Sì, queste sono 1600. Alla fine del 1300, poi, se non c'è. Ma, le chiese, però, le chiese, sono quella di Santa Lucia. E' continuata dalla sua esistenza, fino a 1600. 1600. E' 1600, poi, ha perso la sua importanza di arcipretura. Cioè, chiesa madre di Santa Maria. Quindi, poi, la chiesa parrucchiale è semplice. Però, le vite, 416... ... ... ... ... ...